Buonasera da Infostudio, lunedì 8 giugno, ancora zero contagi in Calabria, è il terzo giorno consecutivo, è un numero che ricorre il 14 per ben 3 volte, 2 volte con il segno meno davanti, una con il segno più, sempre però si tratta di un dato positivo, un dato buono per quanto riguarda i numeri dell'epidemia nella nostra regione. Partiamo dal dato principale, tra ieri e oggi non sono stati processati molti tamponi, in tutto sono stati 359, ma ancora una volta non sono stati rivelati nuovi casi positivi, quindi il numero delle persone, dei casi scoperti nella nostra regione resta fermo a quello di venerdì scorso, 1159, ripeto, per il terzo giorno consecutivo, ma soprattutto per la decima volta negli ultimi 11 giorni non sono stati scoperti tamponi positivi. Ci sono come ieri 18 persone ricoverate, le stesse di ieri, 14 a Catanzaro, 3 a Reggio Calabria e 1 a Cosenza, nessuna in terapia intensiva e poi c'è questo numero che ho detto ricorre per ben tre volte il 14, sempre però in maniera positiva, perché ci sono 14 persone in meno in isolamento domiciliare, ieri erano 73, stasera sono 59, stesso numero 14, ma in più di guariti che passano da 971 ieri a 985 oggi e poi ci sono 14 ammalati in meno, cioè i casi di persone tuttora positive in Calabria, i casi ancora attivi, vengono definiti clinicamente, sono 77, ieri invece erano 91. A livello nazionale torna ad aumentare il rapporto tra nuovi positivi e persone sottoposte al test, oggi c'è un caso positivo, ogni 58 persone testate nei due giorni scorsi erano 1 ogni 120-140 persone. Se si tratti di un campanello d'allarme lo sapremo in termini di due giorni, perché se questa tendenza si confermasse potrebbe esserci una ripresa dei contagi. Sappiamo che ci sono dei focolai, c'è quello di Roma, si dice sia stato circoscritto, ma si parla di 170 micro focolai ancora attivi in tutto il Paese. Oggi sono decedute purtroppo 65 persone, in 11 regioni, compresa la nostra, non ci sono state vittime. In terapia intensiva ci sono ancora 283 persone, sono 4 in meno di ieri. In ospedale ricoverati con sintomi sono 4.729, rispetto a ieri sono diminuiti di 135. In isolamento domiciliare ci sono quasi 400 persone in meno, adesso sono 29.718. Ma vediamo il dato della protezione civile, ho detto ci sono purtroppo, allora andiamo da destra, partiamo da destra, dall'inizio dell'epidemia sono state colpite dal coronavirus 235.278 persone, con i 65 morti di oggi il totale dei decessi arriva a 33.964, con le 747 persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore il numero dei guariti sale a 166.584, il totale delle persone positive che continua a scendere per fortuna è di 34.730. C'è un'emergenza sanitaria e c'è un'emergenza economica. Oggi l'Istat nel suo rapporto previsionale circa le stime per la chiusura del secondo trimestre e le previsioni sul secondo semestre del 2020 dice sostanzialmente che il PIL italiano crollerà dell'8,3% e che poi ci sarà una ripresa nel 2021. Questo vale per il PIL, vale per l'occupazione, vale per le esportazioni, è dunque un fenomeno classico in economia detto di rimbalzo, cioè dopo una crisi profonda c'è poi chiaramente un effetto ascensionale anche se alla fine tra il perso, l'8% e il recuperato circa il 4,6% non arriveremo alla metà di quanto questo 2020 ci avrà sottratto. Il prodotto interno lordo italiano calerà dell'8,3% nel 2020 ma nel 2021 ci sarà un rimbalzo del 4,6%. Insomma alla fine del prossimo anno avremo recuperato la metà di quello che perderemo in questo disastroso 2020. Sono le previsioni dell'Istat sull'economia italiana, previsioni che tengono conto non solo dell'emergenza sanitaria di questi ultimi tre mesi e mezzo ma anche dei segnali di stagnazione già evidenti alla fine del 2019, quindi ben prima che scoppiasse l'epidemia. Il lavoro seguirà lo stesso andamento, l'occupazione quest'anno calerà del 9,3% e nel 2021 aumenterà del 4,1%. Dal rapporto sulle prospettive per l'economia italiana diffuso stamane arrivano tuttavia alcuni segnali incoraggianti. Gli indicatori disponibili per il mese di maggio mostrano infatti i primi segnali di ripresa in linea col processo di riapertura delle attività che produrranno un miglioramento del clima economico con effetti positivi sul PIL che dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre di quest'anno dovrebbe poi crescere nel secondo semestre. C'è però da osservare che le previsioni di quest'anno sono meno attendibili del solito per via dello shock senza precedenti che ha investito la nostra economia. Esse si basano soprattutto su ipotesi che riguardano prevalentemente l'ampiezza della caduta della produzione nel secondo trimestre, più marcata di quella del primo, e sulla velocità di ripresa dei ritmi produttivi nel terzo e quarto trimestre. Ovviamente poi i dati sono condizionati, cioè sono legati al fatto che non ci sia una significativa ripresa dei contagi nella seconda parte dell'anno, e confidano che le misure economiche abbiano l'effetto positivo previsto, favorito anche dal proseguimento di una politica monetaria accomodante che ha stabilizzato i mercati finanziari. Per quanto riguarda il lavoro esso risente delle conseguenze del lockdown non solo per la perdita dei posti, ma anche per il fortissimo aumento di inattivi, circa mezzo milione nei primi 4 mesi di quest'anno. Una situazione che pesa soprattutto sulle donne. Il tasso di inattività femminile è cresciuto di 2,3 punti percentuali, la disoccupazione è diminuita del 2,6%. Il maggior numero di inattivi si ha nella fascia di età tra i 35 e i 49 anni e tra 25 e i 34 anni. Strettamente legati al peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro e dell'attività produttiva, e solo parzialmente attenuati dai provvedimenti del governo anche i consumi, che scenderanno dell'8,7%, mentre l'anno prossimo dovrebbero crescere del 5%. La contrazione più forte degli acquisti si registra per i beni durevoli e i servizi, che in Italia è più accentuata rispetto ad altri paesi. Da noi gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio riferite ad aprile, mese caratterizzato dalla presenza delle misure di lockdown più incisive, segnalano un deciso calo rispetto al mese precedente, dell'11,4%, anche se esiste una notevolissima differenza tra vendite dei beni non alimentari, diminuite del 24,5%, e quelle dei beni alimentari, calate solo dello 0,4%. Tra i prodotti non alimentari la contrazione più marcata è stata segnata da calzature, mobili, articoli tessili, arredamento ed abbigliamento. Per quel che riguarda i consumi la ripresa non sarà immediata. I dati più recenti sul clima di fiducia relativi a maggio 2020 confermano un quadro di difficoltà. Infine, per quanto riguarda l'export, il crollo è a due cifre a causa del drastico ridimensionamento del commercio mondiale. L'Istat prevede che il Made in Italy diminuirà del 13,9% nel 2020 e poi aumenterà del 7,9% nel 2021. A scendere però non sono solo le esportazioni. Il rallentamento dell'economia ed il calo degli acquisti dovrebbero determinare anche una flessione delle importazioni, calcolato nel 14,4% per quest'anno. Poi, l'anno prossimo, seguirà un aumento del 7,8%. Un'area della superficie di 700 m2 sul litorale di Cassano allo Ionio che ricade all'interno di un SIC, un sito di interesse comunitario, è stata sequestrata dai carabinieri forestali che hanno adottato il provvedimento dopo aver notato dei lavori di sbancamento che hanno causato danni alla fauna e alla flora dell'area. Adesso si indaga per risalire ai responsabili. Sono stati i tecnici del comune di Cassano allo Ionio ad accorgersi dello sbancamento nel corso di un sopralluogo. È emerso che l'area era stata livellata e così è stata distrutta gran parte della vegetazione spontanea. Si tratta di eucalipti e di mimosa marina e l'intervento risalirebbe a qualche mese fa. Nella loro relazione i tecnici hanno scritto che è stato a posto uno strato di terreno stabilizzato, infatti la superficie è del tutto priva di erba e hanno evidenziato che anche la strada d'accesso in terra battuta è stata oggetto di lavori di ampliamento col taglio di alcuni alberi in alcuni tratti. I carabinieri hanno arrestato Angelo Macri, 38 anni di Delia Nuova, trovato in possesso da prima di una pistola calibro 7,65 munizioni e circa 120 cartucce dello stesso calibro, poi gli è stata trovata anche un'altra pistola e della droga. I sequestri rientrano in un'operazione condotta con l'impiego di una trentina di uomini per contrastare la detenzione proprio di armi e droga. Sono stati perquisiti terreni e case nell'area aspromontana. Quando sono arrivati i carabinieri Macri ha tentato di fuggire dalla porta posteriore della propria abitazione ma è stato bloccato. Con sé aveva la pistola col caricatore inserito e altri 120 proiettili dello stesso calibro, un'altra 7,65. Poi perquisendo il garage è stato trovato il mezzo chilo di marijuana, l'altra pistola e 33 munizioni dello stesso calibro. Le armi ovviamente verranno avviate adesso a Messina, cioè la sede del reparto investigazioni scientifiche per essere analizzate. A Catanzaro si è insediato il nuovo presidente del Tribunale. Si tratta di Rodolfo Palermo, originario di Branca Leone, 65 anni, da quasi sei anni presiedeva il Tribunale di Locri dopo essere stato presidente della sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria. Di lui il procuratore di Catanzaro Gratteri ha detto posso dire che una persona per bene, molto preparata per lui parla la sua storia di magistrato. È un grande magistrato e secondo me un grande presidente, secondo me darà un'accelerazione all'organizzazione e al funzionamento di questo Tribunale. Palermo ha ricoperto incarichi all'Ocri, al Tribunale stato presidente e ha presieduto la sessione civile del Tribunale di Reggio. Dovrà gestire in tempi di pandemia e di, sappiamo insomma tutti devono uniformarsi al contenimento della diffusione del contagio, dei processi molto importanti, probabilmente anche molto partecipati, cioè molto affollati. Ma ci interfacceremo, ha detto Palermo, con il Ministero della Giustizia per avere tutti gli ausili necessari. Queste le sue parole, subito dopo la cerimonia. La prima reazione è quella di aver apprezzato tantissimo l'accoglienza di tutto il personale, di tutte le forze dell'ordine che ho incontrato giù, di tutti i colleghi che ho avuto modo fino al momento di incontrare. Prospettive sono quelle di dare, di continuare a gestire l'ufficio all'insegna dell'efficienza. Il Tribunale deve svolgere il servizio giustizia e lo svolgerà. Spero di essere all'altezza, con l'aiuto di tutti quanti i collaboratori. So che ci sono tanti giovani magistrati che sono i più attivi per l'entusiasmo dell'età. Comunque ho conosciuto tanti colleghi abbastanza accorsati che con la loro esperienza riusciranno a condividere questa gestione. La mia azione sarà sempre improntata all'efficienza del servizio. Il Tribunale spero che possa riprendere presto la propria attività ordinaria dopo questa fase, questa emergenza epidemiologica. Speriamo a settembre di ripartire bene, normalmente. È stato un inverno con poca neve, è stata una primavera con pochissima pioggia e quindi si va verso un'estate non facilissima per quanto riguarda gli approvvigionamenti idrici. I comuni chiedono più acqua, la Sorical risponde picche sia per motivi economici e quindi di costi sia ancora perché non è certo il modo migliore per avvicinarsi alla stagione più calda che ancora deve arrivare. Piuttosto invia ai comuni le raccomandazioni per un uso più razionale dell'acqua e anche per prevenire, insomma, prendere delle misure di precauzione per lenire o limitare i disagi. Quella alle porte potrebbe rivelarsi un'estate problematica sul fronte degli approvvigionamenti idrici in Calabria. Poco più di una settimana fa il dossier è inviato dalla Sorical alle cinque prefetture per lanciare l'allarme siccità alla luce di un inverno con poca neve e di una primavera tra le più secche degli ultimi anni. È l'invito ai comuni calabresi di una comunicazione finalizzata a limitare i disagi, tenuto conto anche della fase di contenimento della diffusione del coronavirus, ed a fornire suggerimenti per limitarli e prevenire problemi igienico-sanitari. La società di gestione ha chiaramente parlato di probabile erogazione ad intermittenza in alcune aree, specie quelle più settentrionali, come era già caduto nell'estate del 2017. Venerdì scorso il responsabile dell'area operativa della Sorical, Sergio De Marco, ha anche risposto alle richieste di aumento delle erogazioni da parte di alcuni comuni, per giunta arrivate prima ancora del periodo più caldo. De Marco ha fatto presente che le sovraerogazioni hanno costi ingentissimi, non sostenibili anche perché troppi comuni calabresi pagano con enormi ritardi o addirittura non pagano il servizio. De Marco ha ricordato l'elevatissimo livello di perdite sulle reti idriche gestite dai comuni e la distribuzione troppo disomogenea dell'acqua che giunge ai serbatoi. Anche il dirigente ha confermato che è la provincia di Cosenza quella che avrà i problemi più accentuati, aggiungendo che nei mesi estivi non sarà possibile garantire tutta l'acqua che normalmente veniva prelevata. Ma la strada per compensare le minori quantità disponibili, sottolinea De Marco, non è quella impercorribile di sovraerogazioni, quanto quella di una gestione più oculata e parsimoniosa delle risorse idriche a partire da interventi per la riduzione delle perdite e dall'esecuzione di corrette manovre idrauliche per regolare la pressione e della repressione degli utilizzi impropri, non escludendo il ricorso anche a pesanti sanzioni. Intanto il coordinamento calabrese per l'acqua pubblica, Bruno Arcuri, lancia un allarme sulle strategie di gestione delle risorse idriche dopo che il presidente dell'autorità calabrese ha accennato alla necessità di costituire in via anche temporanea una società esclusivamente pubblica. Il coordinamento ricorda che furono 800.000 i calabresi che nel referendum del 2011 si espressero a favore di una gestione pubblica dell'acqua ed esprime preoccupazione per l'eventualità che il passaggio alla gestione pubblica sia di breve durata. L'acqua, si sottolinea in un documento, è un bene comune la cui fruizione va garantita a tutti, evitando criticità gestionali che non possono pesare sulla salute e sulla vita dei calabresi sotto forma di costi aggiuntivi. E' anomalo essere promossi calcisticamente dopo un Consiglio federale, anche se non è la prima volta che accade, ma questa è una situazione assolutamente speciale, quella che abbiamo vissuto alla fine di questa stagione 2019-2020, ma comunque la festa è scattata lo stesso a Reggio Calabria per il ritorno dopo sei stagioni della Regina in Serie B. Un risultato ripeto un po' strano, però sappiamo che l'emergenza coronavirus ha bloccato un po' tutto il calcio. La Serie A riparte tra una dozzina di giorni e tra poco riprende con la Coppa Italia. La Serie B vorrebbe ripartire il 20 giugno, ma ancora manca l'ufficialità. La Serie C oggi ha deciso di fermarsi, ovvero il Consiglio federale ha deciso che la stagione regolare è conclusa, poi ci saranno play-off e play-out, ma al termine di 30 giornate Regina, Monza e Vicenza, perché anche queste due squadre che erano in testa nei rispettivi gironi, il Monza nel girone A, il Vicenza nel girone B, la Regina nel girone C, erano largamente in vantaggio rispetto alle immediate inseguitrici. La Regina per esempio aveva 9 punti di vantaggio sul Bari secondo, frutto di 21 vittorie, 6 pareggi e sole 3 sconfitte. Fra l'altro la squadra Mimmo Toscano aveva il migliore attacco, la migliore difesa poi ha anche realizzato una serie di 11 vittorie consecutive, insomma difficilmente si può trovare un primato di una promozione così strameritati come questa. La Regina mancava, ripeto, da 6 anni dalla Serie B, dalla stagione 2013-2014 e come vedete a Reggio sul corso principale in Piazza Duomo è subito scattata la festa e devo dire che insomma abbastanza oculatamente le persone sono mantenute per quel che hanno potuto a distanza e mi sembra di vedere insomma non tutti con la mascherina ma comunque insomma diciamo molte mascherine. E allora la notizia era festosa in conclusione di questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo tgcal24.it e vi auguro buona sera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.